Ragazzi oggi andremo ad esplorare il Tempio Sottomarino che si trova lì e che in teoria Gabri ha già cercato Eh sì l'ho trovato E l'ha già trovato E lui ci guiderà diciamo più o meno eh mi raccomando Spero che tu ci guiderai bene anche perché sennò poi dopo ti devo prendere abbastonate Intanto la carissima Chiara ci sta facendo le carissime barche che ci serviranno per intraprendere questa grande avventura Meno non è legno Ma come? Ma sei inutile Chi caspita è quel deficiente idiota che non... Donisiani purtroppo questo è il bello della diretta Allora forza iniziamo immediatamente Ok io adesso vi faccio vedere pure che stivali magici ho perché ragazzi io posso camminare se l'acqua Stivali magici? Sì 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 Ah di quelli con... com'è che si chiama? Sì con Death Stranding Comunque Gabri mi raccomando parla bene altrimenti poi... Eh scusa scusa Mi nervosisco ma secondo me mi sono sbagliato No si chiama... Eh esatto esatto questo è quello per notare velocemente Ah ma io pensavo che erano quelli per... Per camminare? Sì quelli col ghiaccio Che formava il ghiaccio Di congelare Anch'io Anche io Vai seguimo te La posso guidare io please così Ammeno so le corde Le corde sì lui sa le corde Allora portaci immediatamente o solda o pirata quello che caspita sei Ok mi stavo bugando un po' Eh... Però vabbè facciamo un te niente Mi dispiace per Minecraft mi raccomando Gabri portaci bene perché altrimenti... Va bene va bene Il tuo sedere e poi premi CTRL così fai più veloce Unisiani ah che bello siamo arrivati dietro di me come potete ben vedere c'è il tempio sottomarino magico Eh però io ho un po' paura Mi dispiace Gab si anch'io comunque ho paura Ti capisco perfettamente Ma aspetta ma là c'è un pezzo Aspetta Allora Gabri Gabri parla bene altrimenti poi dopo vatti mi rimane Eh scusa scusa Lì c'è un altro pezzo Dici spero di no perché sennò poi dopo dobbiamo andare Aspetta non avviciniamoci troppo Sennò poi dopo dobbiamo andare ad esplorare anche quello Però se vedete nei nostri inventari vi ho messo qualcosa Cioè nel senso nel mio inventario ho le mie pozioni Però anche a voi vi ho fornito delle pozioni che potete usare Nel caso vi servano ovviamente Esatto E ne ho messo un bel po' come tutte queste qua Allora io direi che per ora non prendiamo la regeneration e nemmeno la strength Che sarebbe la forza e la rigenerazione Però prendiamo la water breathing e la night vision Ma perché io sto parlando così la water breathing Aspetta che adesso lo pronuncio Water breathing oh my goodness No Vabbè comunque scusate questo era un piccolo Piccolo sclero Sì 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 nei miei video capita spesso purtroppo Gabri dove vai? Allora forza Parte Vabbè lui parte perché è un po' abituato Adesso prendiamo beviamo la pozione mi raccomando Quale via prima? Quale volete non rompete le palle La night vision e le altre mi raccomando poi le altre cose ce le possiamo buttare via Ah adesso guardate come possiamo vedere bene i fondali marini Sì ci vede benissimo adesso Eh per fortuna anche perché Oh che bello Gabri ha bandato la barca Gabri No Che è responsabile Che è responsabile di questa cosa veramente terribile Che oh porca miseria Lunisianim Sono già il guardian È un problema io non mi sono manco fatto lo scudo Mannaggia il guardian No non è che io Spuzzinoso schifoso No vero Eh siamo stati stupidi però Forse no 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 raga qua ci fanno fuori Dove siete prima di Ok siamo stati qua Perfetti allora però Qua adesso dobbiamo parlare Perché se no poi dopo non ne vado Eh parliamo per un attimo di una situazione un po' di pericolo Eh non importa A costo di morirci dobbiamo Dobbiamo parlare a costo di morirci Allora la situazione purtroppo è critica Eh appunto Come potete vedere Chiara quel guardia Ah sta affrontando me invece il guardian Come ti permetti tu Affrontare il Il dunis Eh Esatto Stifoso Non ti permette Ma perché non nuoto Ma andiamo a chiudere un tono Ma porca miseria Adesso adesso ormai è diventata una cosa Porca miseria No è diventata una cosa personale fra me E questo guardian Che si permette solamente di sfidare dunis Cioè stai scherzando Cioè è vero Gabriel Diglielo un po' Eh infatti come si permette Cioè Stupido Completato questo guardian Esatto Non si fa guardian Allora forza però Andiamo Iniziamo ad entrare Sì perché sennò qua non Rimendiamo sempre qua Eh infatti Qua c'è il guardian Uno di quelli più grandi Ok perfetto Ma scusate dove è che si entra? Dove chiede? Dal Allora Siamo all'entrata esatto Chiara No Ok qua c'è Gabriel No 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 Ce ne sono troppi Ce ne sono troppi Mi stanno ammazzando Ci moriamo Mi stanno ammazzando No sono troppi Come facciamo? Eh esatto È impossibile Come si fa? Allora Serve organizzazione un attimo Gabri Tu attira lì Porca no È impossibile È impossibile Ti attiro verso di me Sì ma è impossibile Cioè io ve lo dico Questa cosa Allora Duinisiani Possiamo trovarci in una situazione Cioè stiamo In una situazione leggermente complicata Perché Mi sa Sì infatti Che è leggermente impossibile Quello che stiamo noi facendo Ma dove siete? Allora Chiara Porca miseria Dove sei tu? Perché ti allontani dal gruppo? No ma Io ero dove All'entrata Io ero prima Evidentemente Ci siamo io Gabri Vuol dire che sei stata tu disattenta O mi sbaglio Mannaggia te Alle tue chiappette E ti stai parlando male Non parlare male Parla bene invece Ma te lo devo spiegare Io veramente sono sciocco basito Dal tuo comportamento di oggi Cioè veramente Non si fa Allora io sto andando dentro Non mi interessa più niente Sto lentamente morendo Ah lentamente morendo Mi dispiace molto Cara Chiara Muori in silenzio Casomai Ho visto un Gabri selvatico Non mori Comunque Io vi informo Che sono dentro E soprattutto vi informo Che state parlando malissimo Quindi No come? Chiara Ti dai una svegliata E la smetti di parlare Io sto vedendo questa canna Ecco Stai parlando uguale Così Parla bene Ok No no aspetta un attimo Scusate Ok Perfetto Allora ti proteggo No stai andando proprio Verso l'uscita Invece devi entrare proprio qua Perché qua in questo ponte magico Qua non c'è nessuno Ponte magico Sì 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 Io lo chiamo ponte magico Fammi rigenerare un attimo Scusa Cioè Sto morendo male Ma sta parlando malissimo Sta borbottando Come sta No no io sto gridando Adesso stai gridando Prima no Ah qua c'è un guardian Che ci vuole fare il sederino Capri Esatto Ma comunque devo dire Che ce la stai scavando A parte Chiara Sì noi due più o meno Infatti c'è Chiara Noi due più o meno Grazie Eh sei lì all'esterno Con tutti i guardian Che ti stanno dietro il sedere Chiara fai te Non lo so Cioè fai te Allora qua c'è Ah Però sapete cosa sarebbe stato utile No 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 Qua ci stanno ammazzando Sapete cosa sarebbe stato utile Avere tipo il tridente Con l'asservi Sì vero Eh sì però Non l'abbiamo neanche trovato Cioè È vero È là Troppo raro Sì 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 Ma perché là bisogna esplorare Sì esatto Adesso Chiara dimmi un po' Come sei messa Male Ho trovato il guardian gigante Ecco eccolo Il guardian gigante da fuori Brava brava Trova Trova E cerca di non morire No Duniziani qua È finito È il brutto qua È il brutto Denis Denis vieni qua ad aiutarmi Ti prego Denis Dove sei Dove sei Gabri Da sopra Ecco l'ha ammazzato il guardian gigante Oh mamma mia No no Mi ha ammazzato a me No scherzavo Mi ha dato una spugna Denis Ma dove sei Ecco So qua so Ah sei qua Ok Bravo bravo Che l'ha ammazzato molto bene Mi ha dato la spugna Che bello Ok bravo bravo Ti ha dato la spugna Sì Mettitela nel sedere Intanto Cosa Sì intanto che arriva Chiara Che così almeno l'aspettiamo Ma io non posso arrivare E cioè è impossibile entrare Gabri Gabri siamo in questa parte bellissima Spero spiegami Ma dentro c'è un blocco Mi sembra di oro Di diamante Ok sì Mi sembra di oro Gabri D'oro sì Esatto Perché praticamente c'è il tesoro Del tempio sottomarino Però prima dobbiamo Dobbiamo affrontare i guardian Perché se no ci continuano a dare Mining fatigue Duniziani Voi sapete cosa è mining fatigue E la fatica di scavare Praticamente Non riusciamo a scavare Con questa fatica Cioè se io provo a scavare È impossibile È impossibile Eh no Però qua Se continuo così Mi ammazzano Quindi aiuto Tranquilli tranquilli Ci sto No io ho ancora L'effetto di night vision E water breathing Dura ancora un minuto No 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 Hai ragione Gabriele Hai ragione È vero Eh io mi devo prendere Un'altra pozione Bravo che te lo stai ricordato Eh infatti Nascondiamoci per un secondo qua Perché se no Ci fanno proprio male Allora Potion water breathing E pure night vision Night vision Ok perfetto Perfetto Adesso Ne abbiamo ancora una Ok esatto Quindi ci dobbiamo anche Un po' sbrigare Vabbè durano 8 minuti Alla fine quindi Eh esatto Quindi anche un bel po' Esatto Sì 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 Anche un bel po' Meno male Infatti non è che servono Molte pozioni qua Siccome durano tanto Però ci sono troppi guardiani Troppi sposi qua Cioè non è Oh scusa Gabriele Caspita No no ma non mi hai fatto niente Ah ok meno male Ok allora però Gabriele dove stai andando No aspetta Torna indietro Torna indietro Eh sì devi tornare indietro Cosa sta succedendo di là No Dennis sarà alla fine Dennis sarà alla fine Gabriele è entrato nella stanza Dove ci sono tutti i guardiani Eh qua Aspettate Facciamo così Facciamo così Chiudiamo qua dietro Ma poi è una cosa La pozione di Night Vision È una brutta idea Non mi sembra che cambia qualcosa Con la pozione di Night Vision Non mi sembra di vedere un guardia Sì che cambia Sì che cambia Cambia Come come Gabriele si cambia Non lo so mi sembra uguale Allora Oh porca miseria Dunisiani qua No 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 Ripirata 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 Eh ma questa stanza Com'è che Cioè nel senso ci sono cose importanti Cioè per fortuna Che non mi fanno niente Per fortuna Cioè È vero perché noi abbiamo Neanche un cuore Neanche mezzo Eh infatti meno male Che abbiamo le armature super potenti Che mamma mia Altrimenti Per fortuna che ho ascoltato Il consiglio di Gabriele Di incantarmi Altrimenti qua Sì perché se no C'era Dennis con l'armatura Senza incantamento Sì 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 Ma poi per fortuna Che mi sono anche usciti Un incantamento È bastato Oddio Cosa è successo Niente male Però avete notato Che almeno voi avete Tipo il delfino La grazia del delfino No come si chiama No ma io ho sentito Un suono strano Quello di Mining Fatigue Sì sì Probabilmente ce l'hai ridato Guarda pieno di spugne qui Dennis vieni a vedere Dove? Da sopra Ah belle Eh però non le possiamo prendere Perché no? Eh non abbiamo Mining Fatigue No è vero è vero Doviamo aspettare che ci passa Quattro minuti ancora Allora dobbiamo cercare Di fare qualcosa Doniziani Perché qua È dura Eh dobbiamo ammazzare i Guardian Sì per forza I Guardian grandi Dobbiamo ammazzare Quelli là su percizzoni Voglio trovarli prima di tutto Eh appunto Infatti qua sopra cosa c'è Ci siamo stati qua Io ti dico che ti stai già riaddormentando No Ti prego Sto parlando quella prima No 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 Prima eri più sveglia Oh mamma Però adesso vedo che ti stai di nuovo svegliando Comunque qua non possiamo spaccare Finchè non Non uccidiamo tutti i Guardian Non possiamo fare niente Quindi Troppo brutta sta cosa Eh esatto Io non odio sto effetto Eh sì ma perché è fastidiosissimo Quindi esploriamo meglio Esploriamo meglio Mi raccomando Seguitemi perché sennò poi dopo ci perdiamo E non va bene Va bene va bene Ecco Gabri Già si è perso Veloce E mannaggia le tue chiappette No qua non c'è niente Perfetto Ah che bella questa stanza Adesso magari rimandiamo ancora qua nel server Cioè le server Eh Nel tempo Eh nel tempo Sì Ci perdiamo Sì Ma di cosa sta parlando Oh Gabri Sì 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 Allora esatto Sì c'è l'uscita Ma comunque Qua stiamo facendo un casino Eh io ve lo dico Sì infatti stiamo picchiando noi A parte quello Ma dico nella parlata Sì Anche quello in effetti Vabbè ma voi sapete dove ci stanno gli altri guardiani Eh no dobbiamo cercarli Allora forza seguite Seguite me mannaggia voi Di là ce l'avamo già stati No 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 Dove l'abri di là Eh ma è stupido Va per le sue Stupido 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 Aha qua cos'è che c'è Un'altra cosa Cioè no non c'è un guardian Però ci sono altre stanze qua Ah mi sembra forse qua ce n'è uno forse Vedi esatto Porca miseria questi tizi qua Che continuano ad ucciderci No raga Vado a cercarlo Oddio È una fatica assurda Ok magari facciamo un taglio E poi ci vediamo Eh scherzavo scherzavo C'è un mega guardian qua Porca miseria Vabbè Una roba pazzurda qua Qui dietro Gabri Arriva arriva arrivo Qui dietro allora però Mannaggia voi Oddio No 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 Ritirata Ritirata Stai scherzando No Cioè Stanno scherzando spero È un po' l'ho preso Sì ma infatti Ma poi ci sono pure i suoi scagnozzi là Come si chiamano Mini guardian Mini guardian Mini cavolini Fritti Per non dire qualcos'altro Perché veramente questo gioco L'abbiamo ucciso Siamo stati super pro duniziani Vedete qua siamo pro noi Però dov'è la spugna che ha dato C'è la Dennis Davvero Può darsi può darsi Io non riesco a guardare ora No l'ho vista l'ho vista Ok 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 Meno male meno male Ok e l'ho presa io per fortuna Oh meno male Forse ce n'è ancora uno Poi mi sembra che li abbiamo ammazzati tutti Esatto perché sono in Tutto tre Eh esatto È utilissima questa cosa Ok va bene Ti stiamo decimando Facciamo facciamo un circondario qua Ok ok ragazzi 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 Uccidiamolo uccidiamolo Ok l'abbiamo trovato per fortuna Siamo stati super proissimi Allora porca misera Gli facciamo il sedere E poi ragazzi Vi rendete conto che dopo Quanti ce ne sono No no Prima Dobbiamo anche uccidere il loro Allora facciamo così Gabri cerca di uccidere più il tizio La grande Io e Chiara ci occupiamo più dei tizi piccoli Se no qua non Se non ci scaglioniamo così Non facciamo niente Però qua già mi stanno ammazzando a me Quindi direi È pure a me È ritirata È ritirata È ritirata No Qua ce ne sono tipo troppi No aiuto aiuto Non posso Oddio Chiara Ok fai bene ad uscire Fai bene ad uscire Tranquilla Allora Oddio Non si vede niente Ho paura Allora qua è un casino L'ho ammazzato L'ho ammazzato Davvero ok Scappa Gabri Scappa 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 Corro Ok Aiuto Venite Venite No 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 Due cuore Due cuore No Chiara Scappa Esci Esci Se non riesci esci Ok tranquilli Non stanno facendo niente Ci stanno solamente puntando Ma tranquilli che Ok esatto Porche misera Raga ma che avventura pazzesca Abbiamo appena vissuto Forza scappiamo Pazzesca Orribile Io ho ancora 40 secondi di mining fatigue Così almeno possiamo prendere qua Sì Esatto Ma noi siete saliti Scusate No Noi siamo sempre nella stessa stanza Chiara Tranquilla Siamo ancora qua Io devo stare attenta Non farmi colpire da un guardian Eh attenta Esatto Attento dai guardian Che comunque rompono proprio le palesti qua Cioè si può colpire Non è possibile Dunisiani Cioè qua Dobbiamo proprio firmare una petizione contro i guardian Esatto Una roba pazzurda Ok Ah Denis Li tenete ai blocchi I blocchi Vediamo un attimo Ma che blocchi? Domanda Quelli d'oro Che stanno dentro Ah ok Sì 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 Li tengo ovviamente io Però li prendete voi Perché se no Eh io li inventario pieno Vabbè no Come ne ho detto Lascio Vabbè lascia qualcosa Comunque la prende chiara Chi vuole Ok io ho fatto 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 Ok perfetto Quindi non ci danno più minding Oddio che bello No non ci posso credere Cioè top Dunisiani Però in realtà forse ce lo danno ancora credo Non ne sono sicuro No come Non dirmi Forse Forse sì ma non penso No no è vero Forse no è vero Ma infatti non penso Perché se tu uccidi Guardian Poi non ha senso Esatto esatto Forse non lo danno Forse no Infatti Io intanto mi occupo ancora di questi tizi qua Che continuano a rompere le scatole Veramente Ma porca miseria Ma non è Dunisiani Dobbiamo Sì è possibile È la fine Una fatica Cioè è stata veramente Davvero Cioè registrare Sto video è stata una fatica Ma mi piace molto Registrare questi tipi di video Troppi infarti Sì mi piace molto Comunque mi piacete molto Alla fine che Stiamo parlando bene Vedete così vi voglio Porca miseria Meno male Eh tutti quanti insieme Vedete che poi ce la facciamo Poi ovviamente È vero Eh sì Tranquilli Peccato che eravamo solo noi Che eravamo un po' in pochi No ma secondo me è stato meglio Perché se no era un casino Eh sì è vero Sì uno che andava una parte L'un dall'altro Sì 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 Poi il tempio vedete che anche Molto stretto Molto ristretto Quindi se eravamo in 20.000 Era un casino Non ci passavamo Esatto Quindi meglio in tre Allora Quindi abbiamo Abbiamo preso i blocchi Sì sì l'ho preso io I quattro blocchi Eh le spugne Ah no otto sono Non quattro Le spugne brava Chiara Allora le spugne Andiamo 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 a prendere pure le spugne Per ultima cosa Che sono utilissime Dopodiché Sono forse di qua Sì sono qua Sono qua La respirazione Ah La respirazione Oddio Sì 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 è finita È finita È finita Ok perfetto Vabbè io anche No non ho più l'elmetto Non è vero Io ho l'elmetto Non ho più l'elmetto Esatto Come non hai più l'elmetto Chiara stai di nuovo parlando male Eh cosa stai facendo Stai di nuovo parlando male No No Eh come no Sì sì Te lo dico io Eh Allora Possono prendere sì 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 certo Se tu scavi Però io ho la zappa E quindi faccio più veloce Ah con la zappa si fa più veloce Ok vabbè allora Fai tu Gabri Hai ragione Comunque Gabri dove caspita Sei finito Sono uscito Ah ok Veloce scappiamo 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 Veloce veloce Andiamo Scappo 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 Mettiamo la barca Mettiamo la barca Con la B maiuscola E scappiamo Esatto Aspettami Deniz Come aspettami Comunque Doniziani Come vedete Ah ok perfetto Oh bene E però la ciuta Come vedete Ci sono anche altri giocatori Nel mare Ah Nel mare No nel mare No nel mare Gabri sali qua Ah ragazzi Casa dolce casa Finalmente Eh Abbiamo Nostro carissimo villaggio Sì 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 Abbiamo vissuto veramente Un'avventura molto bella Secondo me Esatto Voglio Voglio rifarne Altre come queste Anche magari quando Andremo a sconfiggere L'ender dragon Oppure Nella margione Andiamo alla mansion Sì Nella mansion Che poi fra l'altro Quella là è super difficile Ancora È il weeder Esatto Brava Chiara E quindi tutte queste cose State Mi raccomando Iscrivetevi al canale Così vedrete Assolutamente Nuove Nuovi video Come questi Le assurde avventure Sì Le assurde Le pazzurde Le straordinarie Avventure Di Doonis and Company Esatto Sono troppi Doonis and Co Sì Eh Comunque Abbiamo trovato belle cose Direi Niente male Sì allora Abbiamo un po' di tutto Alla fine Sì abbiamo anche i blocchi d'oro Che abbiamo Datemi un attimo i blocchi d'oro Chi è che ce li ha Sì sì ce li ho io Ok perfetto Vediamo quanti sono Otto Ah solo otto Pensavo tipo di più Vabbè Comunque Vabbè comunque almeno Li abbiamo trovati Eh esatto esatto E poi con questi Ci possiamo anche fare le ferrovie Mi pare Ah sì Cioè tipo le ferrovie Ah io ho tante rotaie Eh Vabbè 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 Si può fare la farm di rotaie Si può fare Eh sì Quello magari in un prossimo Una prossima volta Che aspetta ne so Magari in un video lo faremo Che ne so Va bene va bene Scrivetecelo nei commenti Eh esatto È diventato il canale di Gabri Questo bello No Mi piace Gabri ti fai anche tu un canale Eh sì Poi fa Ciao a tutti Gabrilessiani No Vabbè Eh niente Tunisiani Eh iscrivetevi al canale Lasciate like Commentate Mi raccomando Commentate con blocco d'oro Mi mangio l'oro Eh eh Così E ci vediamo al prossimo video Ciao Ciao Ciao